Novità nella tradizione, abbiamo tante novità, sì, perché abbiamo spettacoli nuovi, abbiamo aggiunto qualcosa al nostro menù, ma c'è la tradizione della nostra sagra, che è composta di persone, di persone che lavorano e di persone che ci vogliono bene, che vengono tutti gli anni a trovarci. Siamo pronti, è appena finito il temporale, abbiamo avuto qualche... Scarica gratuitamente l'app News24 e leggi gratis i nostri giornali e se vuoi vedere tutto il video, abbonati alla nuova televisione online e live 24 ore su 24.